vediamo un po' che giocattolo sceggo oggi? questo camioncino ha delle ruote così belle posso portarlo con me? ehi ciao George che fai di bello? ciao Riccardo sto scegliendo uno dei miei giocattoli mi sembra di capire che questo camioncino ti piace un sacco eh sì però mi piace anche questo dinosauro come ben sai il dinosauro è il mio giocattolo preferito dinosauro guarda che denti grandi e guarda che piedi grandi che ha e ha pure una lunghissima coda con degli aculi affilatissimi ecco per quale motivo non so che gioco scegliere capisco George è una scelta davvero difficile so io come aiutarti George ehi Riccardo ma cosa hai combinato? non ti preoccupare George adesso sistemiamo tutto ehi ma che cos'è questo? ehi ma cos'è questo cosa? questo è un camion dinosauro fugge sia da camion che da dinosauro ci siamo quasi George wow tieni George questo è il tuo nuovo camioncino dinosauro wow davvero un bellissimo giocattolo abbiamo pure un cestello che gira e anche qui abbiamo dei denti grandi wow mi piace un sacco bene George è arrivata l'ora di andare all'asilo mostrerai il tuo nuovo giocattolo ai tuoi amici andiamo direi che è proprio una bella giornata vero amici? siiii ehi guarda George anche i tuoi compagni d'asilo hanno dei giochi simili ciao a tutti wow che bel triceratopo grazie George e come vedi è in grado anche di ritirare i rifiuti urbani ehi che bello questo è un velociraptor hai indovinato George è proprio un velociraptor grazie mille ed è dotato di una palla demolitrice wow fantastico viviamo un po' ehi ma tu hai un brontosauro giusto George e guarda abbiamo indosazioni e una gru ehi amici ti venite di giocare tutti insieme? siii ci sto dai andiamo che bello mi piace un sacco il mio nuovo giocattolo bene George sono felice che ti sia piaciuto il tuo nuovo giocattolo e noi ci vediamo al prossimo video lascia un like e iscriviti al canale